questo è un video a favore di simone cicalone che per me dovrebbe diventare commissario europeo perché lui filma i borseggiatori in una città piena di piccoli delitti e ti diventano grandi per quando uno ti porta via qualcosa di tuo e la cgl fa una lettera perché non ha paura dei borseggiatori e della gente che a roma ti ferma per strada per portarti via tutta paura di lui che li filma stessa situazione di monica polli un'altra a venezia che evita che i turisti di mezzo mondo si ricordino dell'italia soltanto il peggio anche su quella contro di lei non contro i delinquenti allora adesso che abbiamo stabilito chilaria salis che occupa le case non paga l'affitto ed è sotto processo perché insegue la gente con delle bande e che ha condanne di questa natura diventa euro parlamentare dobbiamo dall'altra parte del mondo quelli che invece ritengono che chi compie i delitti debba stare fuori dalle istituzioni e chi li denuncia debba andarci dentro chiedere un posto per monica polli e per simone cicalone così come dobbiamo chiedere un posto per tutti quelli che puliscono i giardini pubblici dall'immondizia che i comuni non puliscono più e vengono multati perché non si può invece che multare quelli che li sporcano multiamo quelli che li puliscono allora io sto con l'italia che multa chi sporca e non chi pulisce che fa le lettere contro chi borseggia e ruba e scippa e non contro chi li filma e giustamente li mette a esposti al pubblico ludibrio perché vengano identificati presi e portati dove devono stare in galera scusatemi io sto con quell'italia lì vedo che c'è tutto un pezzo che sta con quell'altra quella che delinque e che adesso finalmente anche i suoi rappresentanti ufficiali nelle istituzioni pessima svolta